Come? Fammi usare i lanciarazzi Sono su un elicottero, come faccio? Come faccio? Aiaia Aiaiaiai No, no, no Oh, mi stavo uccidendo con lo scudo, non ci credo Oh, l'ho ucciso dalla... L'ho ucciso mentre era sulla bicicletta Salve a tutti ragazzi, se non siete ancora iscritti premete il tasto iscriviti adesso e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video Salve a tutti ragazzi, sono sempre Redbox e bentornati su Totally Accurate Battlegrounds Oddio, oddio Oddio, eccolo Sì, sì, sì Praticamente il gioco adesso è uscito ed è a pagamento adesso ragazzi Perché se vi ricordate, inizialmente il gioco era gratuito per le prime cento ore Adesso è a pagamento Oh, l'ho ucciso dalla... L'ho ucciso mentre era sulla bicicletta E sta ancora... Sta ancora pedalando Ok Mi sento un personaggio dei Pokémon adesso perché sto andando in bicicletta In un gioco così nonsense Che non ha senso veramente a zero significato Però fa un sacco ridere questo gioco, mi fa davvero davvero ridere Io in realtà dovrei cercare un attimo di cure perché sono... Ho fatto già tipo tre uccisioni da quando è iniziata questa partita E ho detto ma sì dai registriamola Dato che adesso sembra che abbiano sistemato i server perché sono nei server europei Adesso hanno aggiunto più server innanzitutto C'è il server europeo 1, il server europeo 2, il server americano est, il server americano ovest Insomma ci sono un sacco di server in più adesso e ovviamente dato che il gioco è uscito a pagamento perché adesso costa 3 dollari e 99 Allora hanno detto vabbè magari gli diamo una sistemata che dite Eh una sistemata al gioco Quello lì è uno scudo ma al momento non mi serve Mettiamo un punto sulla mappa perché ci dobbiamo spostare con la bicicletta Non ho ancora trovato la macchina, non ho ancora trovato l'elicottero dopo questo aggiornamento C'è un tipo qua che adesso gli farò fare una brutta figlia Ahia no Sono caduto dalla bici Non lo vedo più Eccolo Preso, preso, è quasi morto, è quasi morto Cavolo perché, perché sono sceso così dalla bici Ah ho perso Oh ce n'è un altro anche qua Vieni qua amico Ok Oddio sto facendo 4 kill Ma era anche armato, perché non mi ha ucciso del tutto? Tra l'altro il tipo, quello verde è andato là verso la città ma è già stata luttata Quindi non capisco perché forse vuole solo una protezione Ma io sono tornato ad essere a piedi, rivolgo la mia bicicletta Forse riesco a prendere la bicicletta del tipo che ho ucciso prima, eh Sei qua dentro? Ah facciamo un po' i gangsta così Diamo, diamo un indizio che stiamo arrivando alla gente che è qui vicino Aiaia Aiaiaia No 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 Oh, mi stavo uccidendo con lo scudo, non ci credo Può esserci solo un messicano qui E quel messicano sono io Tra l'altro non ho più vita Ho fatto 5 kill Siamo rimasti in pochissimi Lì c'è questo scudo che potrà Oh, là c'è un altro Ma quanta gente c'è qua in giro? Questo è meglio che lo faccia fuori col pompa, secondo me Aiaia Vai Via, maledetto Ma non era questo che ho visto? Eh, infatti è qua dentro l'altro È qua dentro, è qua dentro Salve È sopra Questo qua Vai Sono fatto Sto facendo un sacco di uccisioni Ne ho fatte tipo 6 E però si sta avvicinando il muro Quindi devo andare assolutamente via di qui Non ho vita Non ho vita Però c'è la bicicletta Almeno la bicicletta C'è una bicicletta Andiamo via Dove sta andando tra l'altro? Il centro Il centro è più o meno qua Quindi spostiamoci verso di qua Ma io ho bisogno di trovare della vita Qualcosa Un medic kit Qualcosa del genere Non ho niente Ho pochissimissimissimissima vita È che io sti tipi qua Li devo lasciare quando non ho vita Perché se aspetto loro No, 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 no Non mi ha visto Non mi ha visto Non mi ha visto È il bello che posso sparare dalla bicicletta Quindi volendo posso essere un attimo più agile di lui Che sta andando in giro a piedi È qua, è qua L'ho visto Mi ha visto anche lui Aspetta che freno Che se scendo senza frenare Faccio una brutta fine Lui è qui da queste parti Io non ho assolutamente niente Per curarmi Ho pochissima vita Siamo rimasti solo in otto Tra l'altro Possibile che non ci sia Nessuna benda Niente qua È qua sotto L'ho visto L'ho preso Però non è morto Quindi anche lui Secondo me Non ha tanta vita Sta salendo Sta salendo qua Oh, eccolo L'ho visto Oh, no Mi ha distrutto Guarda tutto il loot Che gira Avevo fatto Tipo più di 6 kill Vabbè Proviamo a farne un'altra Mi sono precipitato subito Sull'elicottero Non ho idea Di come farlo salire Però Come faccio a far salire L'elicottero Ah, forse col mouse No Sono su un'elicottero Come faccio? Come faccio? Come faccio? Sto ancora facendo beatbox Tra l'altro E non sono vicino a niente Io devo andare a luttare Devo andare a luttare Aspetta Qua ci sono delle case Qua sotto Ci sono delle case Qua sotto Ma mi sa Ma mi sa che c'è già gente Che si sta sparando Sono cascato fuori Dall'elicottero Tirati su Tirati su Sono incastrato Aiuto No, no, no Sono solo un pilota Di elicottero Sono solo un pilota C'è qualcosa qua Non ho colpi No I colpi I colpi I colpi I colpi I colpi Ok Ho una minigun E non ho paura Di utilizzarla Ok Tu che mi stavi smitragliando Che volevi il mio elicottero Dove sei finito? Adesso che sono armato Dove sei finito? Abbassiamoci un bel po' Che se becco qualcuno Vicino col minigun Ah, non posso prendere Dov'è? Dov'è? Non scappare Ok Non dovevi scappare Manco morto Eh, però io non ho quasi più colpi Ho fatto fuori Oh, eccolo là Aiuto Eh, mi sa che anche quello è disarmato Forse O forse ha una pistola Non lo so Sì Ce n'è un altro ancora Ce n'è un altro ancora Non ho colpi Non ho colpi Adesso ce li ho Vai Ma quante kill Già 3 kill Oddio Prendiamo tutti i proiettili Ok Abbiamo la minigun Che abbiamo un bel po' di colpi Da poterci caricare Oddio Sì Ora un revolver Con un mirino Da distanza Posso uscire da qui Oddio Sì posso C'è una cetta Non mi serve la cetta Perché tengo in mano la minigun Poi è una bella domanda Uh, di nuovo la bicicletta Altro che elicottero Viva biciclette E basta Non mi faceva più guidare la bicicletta Via, via Sta arrivando il muro Sta arrivando il muro Oh, lì c'è il mio elicottero Che mi ci trova abbastanza bene Con l'elicottero Ma non sono così in grado di pilotarlo Cioè proprio faccio schifo Perché non mi fa andare in bici ogni tanto? Io salgo ma non mi fa andare Forse è perché salgo al contrario C'è anche sta meccanica qui Che se sali al contrario in bici Non puoi andare avanti Mi raccomando ragazzi Se volete altri video di questo gioco Nonsense Lasciate tanti mi C'è uno con la macchina? Sì c'è uno con la macchina da qualche parte Dove sei tipo con la macchina? Prima che mi ammazzi Dì ai miei iscritti di lasciare mi piace Aiaia Aia Aia Vabbè ve l'ho detto Lasciate mi piace Ho fatto tanti kill anche qui Ma è dura è da solo Andare fino alla fine Allora Sono appena sponato E già sento smitragliare tantissimo Qua c'è anche uno scudo Allora sono appena arrivato qui Ho trovato uno scudo Una mannaia E un fucile a pompa Niente di che sinceramente Qua ci ho già guardato E dove ho trovato la mannaia Non c'è nient'altro Non ho veicoli questa volta Però là in fondo c'è un tipo Solo che io ho solo un fucile a pompa E quindi devo cercare di stare attento Tra l'altro le partite adesso sono più piene del solito Adesso cerco di avvicinarmi È il tipo che ho visto qua Perché io col fucile a pompa Altrimenti che cosa posso fare? Mi posso difendere un minimo con lo scudo E posso sparargli col fucile a pompa Non posso Oh eccolo Ah è troppo lontano È troppo lontano Ho trovato dei razzi Oddio è vero che c'è anche il lanciarazzi Eccolo eccolo Forse ho trovato qualcosa Quindi è pericoloso Che io mi avvicini così tanto No no devo ricaricare Non mi fare male L'ho preso di nuovo L'ho preso di nuovo Oh c'è una pistola Dove vai? Dove vai? Che adesso c'ho anche la pistola da distanza No c'è anche uno in bici qua intorno Ma dai smetti di scappare Cosa ti ho fatto? Voglio solo ucciderti Eccolo Oh Alleluia Mi stai prendendo in giro Cosa me ne faccio io di 15 colpi Di mp40 No rivolgo l'mp40 lo stesso Dove va? Dove va? No 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 Posso infilarmi qua in me Oh sì sì Posso infilarmi lì in me Ah Vi avevo detto che i server funzionavano meglio Avevo le armi belle E mi hanno disconnesso Grazie Gio Grazie mille Oh Non ci credo Lanciarazzi Bicis Aia Dove? Chi? Come? Fammi usare i lanciarazzi No 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 Devo ricaricare Non riesco a prenderlo Dai che ormai dovrebbe essere morto Gli ho spartato con lanciarazzi Cosa? 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 Cosa vuol dire? Vabbè Io direi che per questo video è tutto Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace Per tutte le stragi che ho fatto E per il nonsense che ha questo gioco Se volete provarlo adesso costa 3 dollari e 99 su Steam Credo circa 4 euro Se non siete ancora iscritti fatelo adesso E noi come sempre ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 Ciao